Vi presentiamo FlexCore8, che vi aiuterà a bruciare i grassi e a scolpire il vostro corpo. Inoltre combina esercizi per tonificare, rassodare e bruciare le calorie. In più riceverete la pratica guida alimentare di 21 giorni per bruciare ancora più velocemente le calorie e per mangiare in modo sano. FlexCore8 è il più potente attrezzo per bruciare i grassi, per tonificare e per scolpire gli addominali mai esistito. Perdi peso e aumenti la massa muscolare allo stesso tempo. È vero, FlexCore è incredibile. FlexCore8 è il modo più divertente, veloce e facile per scolpire i vostri addominali, per appiattire il vostro addome, per ridurre il girovita. Eliminate quelle sgradevoli maniglie dell'amore. In più scolpite e tonificate interamente il vostro corpo e otterrete le forme sexy che avete sempre desiderato. Gli esperti sostengono che per bruciare al meglio i grassi bisogna praticare esercizi cardio e di resistenza insieme. FlexCore8 combina entrambi e inoltre con la pratica guida alimentare di 21 giorni essere in forma sarà ancora più facile e divertente. Non c'è nessun altro attrezzo così compatto e performante che vi permetterà di svolgere facilmente gli esercizi per scolpire il vostro fisico. E in più potrete fare cardio tutto grazie all'aiuto di un unico attrezzo. In pochissimo tempo otterrete i massimi risultati. Non ci sono più scuse. FlexCore era proprio quello di cui avevo bisogno. In sole due settimane ho perso 7 centimetri. Non potevo crederci, in pochissime settimane ho perso la pancia in eccesso dovuta al parto. Tonificate gli addominali alti, medi, bassi e obliqui. Rafforzate la parte bassa della schiena per migliorare la vostra salute e la vostra postura. Fate lavorare il petto, le spalle, la schiena, i bicipiti, gli avambracci, i tricipiti, i glutei, le cosce. Chiunque può allenarsi con FlexCore. Otterrete degli ottimi risultati e vi sentirete più attraenti. Per chi lo utilizza le prime volte, ma anche per le persone di qualsiasi età, è possibile regolare la resistenza degli appositi supporti. Come ritenete più opportuno? Inizierete a perdere peso già dalla prima volta. Non sono mai stata così in forma negli ultimi 20 anni. Il segreto è l'apposito design che combina il giusto supporto e la giusta resistenza per darvi l'aiuto di cui avete bisogno durante lo svolgimento di tre tra gli esercizi più efficaci, ma difficili quando la forza di gravità è contro di voi. Ma avrete la massima resistenza quando si vogliono scolpire e tonificare i muscoli, anche quando si vuole fare un allenamento cardio. Da soli non riuscite a svolgere normali esercizi come addominali e dorsali? Con FlexCore potrete facilmente regolare il sostegno, così vi sentirete più sicuri e i vostri movimenti verranno dolcemente accompagnati. È come se aveste un vero e proprio personal trainer con voi. E se volete aumentare la difficoltà, abbassate l'apposito sostegno e avrete il fisico scolpito come avete sempre sognato. Inoltre potete rafforzare le gambe, le braccia, gli addominali alti, i tricipiti, gli addominali bassi e potete fare anche comodamente la bicicletta. FlexCore vi dà l'esatta resistenza di cui avete bisogno per scolpire il vostro corpo come una roccia, il tutto semplicemente in pochi minuti al giorno. È facile e divertente da usare. In sole due settimane ho perso due taglie e a 45 anni devo dire che non sono mai stato così in forma in tutta la mia vita. FlexCore 8 è costruito con acciaio di grande spessore e qualità ed è compatto e facilmente trasportabile per venire con te ovunque tu voglia. Con FlexCore è facile. Non vi rimane nient'altro da fare che alzare la cornetta e chiamare per informazioni. È tempo di cambiare la vostra vita in meglio. Non ci sono più scuse. Puoi avere il fisico che hai sempre voluto stando comodamente a casa. Spenderete centinaia di euro per la palestra e per attrezzi che non utilizzate mai o migliaia di euro in attrezzi alternativi difficili da utilizzare. Ma potete avere il fantastico FlexCore 8 all'incredibile prezzo che vedete in sovraimpressione. Se volete finalmente cambiare la vostra vita, il vostro corpo e avere più fiducia in voi stessi, chiamate ora per informazioni e fate il primo passo verso il corpo che avete sempre desiderato. Un corpo sano ma allo stesso tempo sexy che attirerà l'attenzione di tutti ovunque voi andiate. Chiamate ora per informazioni e riceverete FlexCore 8 con la guida per gli esercizi più adatti e il DVD con i consigli per bruciare velocemente i grassi. Avete tutti gli strumenti per ottenere il corpo che avete sempre desiderato. Ma non è tutto. Se chiamate entro i prossimi minuti riceverete in omaggio la pratica guida alimentare di 21 giorni. Ma attenzione! Tutti i consigli che vi stiamo dando sono preziosissimi. Dunque, chiamate ora per informazioni e non lasciatevi sfuggire questa opportunità. Oggi è il giorno giusto per cambiare la vostra vita in meglio!